Prendere atto di ciò che dicono le persone competenti è prima di tutto un gran piacere. Parleremo di una intervista che è stata fatta a Tremonti, che a qualcuno può non piacere, a me piace molto, perché obiettivamente è un competente. No, ma soprattutto è uno che conosce bene sia il suo mestiere e sia l'ambito in cui si sta muovendo da sempre, per cui ha agito e ha fatto delle cose che qualcun altro non sarebbe riuscito a fare, a cui non avrebbero permesso di fare. Esattamente. E lui invece è stato così delicato, così raffinato nella sua eloquenza, nel suo eloquio, di rappresentare alcuni fatti assolutamente inconfutabili relativi al secondo recondito pensiero, diciamo così, al pensiero dominante e occulto. Al retropensiero. Al retropensiero, ecco non mi viene a dire. Al retropensiero e lui è riuscito a farlo e a far trapelare e a trasparire quelle cose che altrimenti non sarebbe stato dalle. Ha detto non molto, bisogna dire la verità, però è stato l'unico dei politici a mia conoscenza che abbia potuto fare quella cosa del genere. Più che altro è un tecnico, più che politico. Beh, ha fatto il politico pure per una quindicina d'anni. È un tecnico che al momento opportuno è stato prestato alla politica. Poi cosa è successo? È successo che non lo ascoltavano, per cui giustamente si è messo in disparte. Ma tu parla per primo di quella cosa che volevi dire e io finisco con alcune risposte che Tremonti ha dato all'intervistatore che bisogna assolutamente sentire. Allora, un attimo, intanto di qualcosa di che io cerco... Eh, niente, se lui sta cercando adesso io non vorrei iniziare a leggere questa intervista perché obiettivamente questa intervista è meglio leggersela in continuazione, se no magari qualcuno perde il filo. L'ho trovato, l'ho trovato. Ecco, la parola a Orazio. Allora, ho ricevuto, ma ne ho ricevuto da molte fonti diverse, questo post che è la trascrizione in un unico testo di quello che noi abbiamo infinite volte a partire da una trentina d'anni fa, dichiarato pubblicamente e che finalmente adesso vediamo che qualcuno l'ha recepito e magari l'ha anche ampliato o comunque approfondito. Certi concetti cominciano a girare, ci vuole del tempo, ci vuole la maturizzazione, maturazione delle menti e delle coscienze, ma poi a un certo punto diventa dirompente. Allora, leggo, attenzione, pericolo grande, quelli che organizzano bassa dittatura sono infiltrati dei servizi segreti e delle strutture Nato coperte. Sta girando nelle chat un messaggio di bassa dittatura che elenca stazioni ferroviarie e dorari per fare il blocco dei treni sulle rotaie. Una cosa organizzata così è assolutamente pensata e diretta dal potere satanico, dice questo. Noi diciamo invece da quello sotterraneo, che però è un po' diverso, insomma, è concreto, è reale, è esistente. Vi spiego, io vengo dall'esperienza delle piazze infernali dagli anni 70, quindi è un po' più giovincello di noi e quindi noi però abbiamo passato quello che ha passato lui, ma molto più in prima persona e molto più pregnante. Allora, infernali degli anni 70, allora almeno un terzo degli autonomi che andavano in piazza con le pistole in tasca a incendiare auto, negozi, cassonetti e a pestare in 10 un metronotte erano infiltrati di IGOS, dei Carabinieri, della Nato, di Gladio, Stay Behind. Ma soprattutto della Nato? Ma anche del Misei, della CIA, del Mursad, perché in Italia hanno operato praticamente tutti i servizi segreti internazionali di qualche spessore. Compreso quelli russi? Certo, come si chiamava la Russia? Urs. No, come si chiamava i servizi segreti? Anche adesso l'ho cambiato nome, sì. Del KGB. Sì, che beh, bravo. Che coordinava tutti qua. Esatto. Organizzavano apposta le violenze gratuita e contro il popolo, in modo che l'opinione pubblica odiasse chiunque manifestava e inoltre le cariche di queste riunie erano così giustificate. Era la strategia di Costica, noi lo sappiamo, conosciamo bene tutti i misfatti di Costica. Non a caso era Presidente del Consiglio quando ci fu il delitto Moro. Anche, e tante altre cose, riformatore dei servizi segreti nel 1964, eccetera, eccetera. E quindi sempre, in Italia il terrorismo, protesta, opposizione, manifestazioni, atti di ribellione, sono sempre, sempre, sempre stati organizzati dal potere. Il potere non organizza solo i governi, organizza soprattutto le opposizioni. Guardate la storia del Movimento 5 Stelle. Ritorno ai bastardi di bassa dittatura. Non parlo della base. Ingenuotti in buona fede, mandati al macello, parlo dei vertici infiltrati. Vi spiego, e qui è un'analisi assolutamente, diciamo, sottoscrivibile anche da noi in maniera totale. Vi spiego cosa può succedere. E vi sto facendo un riepilogo rapido del terrorismo, fra virgolette, da Portella della Ginestra. Noi abbiamo parlato varie volte di Portella della Ginestra e di chi era stata pagata. L'abbiamo detto l'altro ieri. L'abbiamo detto ieri. Stimolata. Abbiamo altre informazioni. Abbiamo altri testi che possiamo leggere. C'è un libro che è uscito di recente, che è ancora reperibile in edicola, pubblicato a cura della Gazzetta dello Sport. Incredibile. Perché la Gazzetta dello Sport è un editore, è un giornale di larga diffusione di Rizzoli, in realtà è uno dei libri pubblicati da Rizzoli. E' una serie, di cui ho già fatto vedere alcuni titoli, e quello di ieri, che io ho acquistato ieri, era intitolato a Capaci. E lì parla ovviamente delle premesse di Capaci, ma non ci può essere Capaci se non c'è Portella della Ginestra. Va bene, ecco, lo sapessero i nostri amici che noi lo sappiamo. E allora, vi spiego cosa può succedere e vi sto facendo un riepilogo rapido del terrorismo, fra virgolette. Da Portella della Ginestra, sapete di che parlo? Ad oggi, come abbiamo detto noi. Basta dittatura, organizza il blocco ferroviario, ha detto, dicono. Vediamo che cosa succede. Nella stazione di Molfetta, è un esempio, potevo prendere qualsiasi altra stazione della lista di quel messaggio che circolava in rete qualche giorno fa, si presentano, mettiamo, 50-60 cittadini ingenui, a Bocconi, come diciamo a Roma, o Bocconi, peggio ancora, provano a bloccare i binari. Se sono fortunati, li manganellano, li identificano, li denunciano e finisce lì. Se invece va secondo i piani del potere che si crede di combattere, i 50 sprovveduti arrivano ai binari e li occupano. Il potere ha organizzato sia la polizia che i manifestanti mafiosetti locali. Prima arrivano i mafiosetti locali, con l'opervolazione locale dei passeggeri, prendono 50 coglioni e li massacrano. Subito dopo arriva la polizia, arresta i 50 coglioni a terra, sanguinanti, li porta in caserba, li pesta ancora come lua, un po' tutti, poi li incrimina per interruzione di pubblico servizio, articolo 340, un anno di reclusione. Punto 2, blocco ferroviario previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 66 del 22 gennaio 1948, da 1 a 6 anni, con l'aggramante del reato associativo organizzato su mezzi di pubblica diffusione a fini terroristici, si beccano 10 anni senza condizionale. I giornali del giorno dopo, no vax, violenti e terroristi bloccano i treni, la popolazione esasperata chiede intervento delle forze dell'ordine, arrestati 50 sediziosi con finalità terroristiche, e così tutti i free vax saranno da quel punto in poi tutti terroristi per l'opinione pubblica, quella opinione pubblica che vabbè lasciamo stare. Quelli di bassa dittatura sono infiltrati a vertice e la base ignorante e sproveduta dalla strategia della tensione non ha imparato nulla. I vertici invece la conoscono, la modalità della strategia della tensione, e la applicano a menatito, e infatti la applicano magistralmente. Allora, questo che dice questo signore qua, che non so che è un anonimo, noi non abbiamo bisogno di nasconderci sotto l'anonimato. Noi lo diciamo chiaramente da 45 anni, 70 anni Giorgio, lo dice da 70 anni. Finalmente c'è qualcuno che lo dice insieme a noi, e forse qualcuno che va a tentare di capire e si rende conto che effettivamente quello che diceva lui, questo signore qua, e quello che diciamo noi da 50 anni io e 70 anni lui, è la verità inossidabile, incontrovertibile. Quindi, cari amici, io l'ho detto ieri anche ad Andrea Gioia e agli altri che stanno facendo il piccattaggio, il point of presence, la postazione, come si chiama? Non viene la parola, il presenzialismo, chiamalo come ti pare, insomma, e lì gliel'ho detto chiaramente che loro se faranno quella cosa lì come dovrebbero fare oggi, o avrebbero dovuto fare oggi, gli fanno un culo come una cattedrale, come dico sempre io, non come una capanna, come si dice a Roma. Interruzione di pubblico servizio. Sono cazzi acidi, possono mettere tranquillamente in galera per due o tre mesi in attesa di giudizio, perché tu diventi persona pericolosa, e quindi non ti danno solo i 24-48 ore d'arresto per identificarti, darti il foglio di via o quello che sia, o l'atto di citazione, capito? Vi fanno un culo come una cattedrale e poi siete finiti, siete finiti come persona, come cittadini, come persone informate dei fatti, cioè diventate immediatamente un nemico del popolo, mentre voi pensate di fare gli interessi del popolo, diventate un nemico del popolo, perché il popolo è quello credulone, quello baggiano che sta lì a credere alle cazzate che dicono in televisione. Crede alla validità dei vaccini, quando sono stato giorno dopo giorno è dimostrato che non è vero, che è falso, e qualora fossero veri i vaccini non dovrebbero mai essere fatti durante un'epidemia. Certo, trattati in quel modo in cui sono trattati, se fossero veri sarebbero cazzi veri, quello che loro stanno facendo. Per fortuna sono falsi, quindi qualunque cazzata facciano operativamente, comunque va bene, salvo che qualcuno non viene curato e qualcuno è morto. Pare che muore un figlio, un parente, eccetera, date testa e spara qualcuno. E sarebbe l'ora che cominciasse un minimo di agitazione in questo paese, in questa stanca gora. E veniamo invece a un discorso di grande capacità interpretativa che si basa anche sulla conoscenza e sul ricordo di ciò che è avvenuto. Il problema è proprio questo, che questi non hanno memoria neppure retrattiva di 30 anni, 40 anni, gli anni 70, ecco lì, sono stati ieri. Ma per quello voglio leggere quello che dice Tremonti. Domanda, ovviamente l'intervista è molto più lunga, come sempre io mi limito a delle domande importanti e delle risposte ancora più importanti. Finisce l'epoca degli USA gendarmi del mondo? Ah, sicuro. Risposta. Verso la fine degli anni 90, venne invitato a un dibattito alla Cambridge Union Society. Allora si parlava di Jugoslavia, del diritto dovere di intervenire militarmente in caso di crimini, superando lo schema secolare di Westfalia. Ma quando mai? I fatti interni di uno Stato sono cazzi loro. No, ma poi dice, infatti lui dice, superando lo schema secolare di Westfalia. Lo schema secolare di Westfalia, giusto? Ma ci dico bene. Che ciascuno fa i cazzi proprio a casa propria. Di che anno è? 1680? Esatto, meno, meno, molto meno. 1670, adesso non mi ricordo. È la conclusione delle guerre di religione. Ah, di religione, sì, giusto. E allora in questo caso, che hanno coinvolto prevalentemente la Germania, la quale era divisa... Era divisa fra protestanti e cattolici. Non solo, ma era divisa in tantissimi... Circa 300 principali. Esatto. Allora il principio di Westfalia è che i cittadini di ogni principato dovevano avere la religione del principe. Sì, di Stato. Allora, facciamo una piccola considerazione. Questi ci spartiscono anche la religione. Che cazzo vi vengono a raccontare de scienza? Ci spartiscono la religione, nella quale uno deve credere ciecamente, come ne con i vaccini. Il concetto è sempre lo stesso. Abbiamo letto gli atti di condanna della Santa Inquisizione in Italia del 1600. No, ma le modalità in cui applicavano la pena di morte attraverso la tortura, perché uno credeva o non credeva. Ma no, peggio. La maggior parte erano persone talmente ingenue di mettersi nelle mani dei preti. Ed erano gli anabattisti. Ma che sono gli anabattisti? Allora dice, anabattisti. Non battista. No. Facevano credere che non si volevano battezzare. Come ne battezzare? Invece loro sostenevano che il battesimo non si dovesse fare alla nascita. Ma da adulti. Ma quando una persona... E a quel punto lì li bruciavano. Perché? Perché andavano nel principio. Era eretico. Nel principio, contro il principio. Dice, io voglio... Devo decidere io personalmente qual è la mia religione. E invece no. E aderire e basta. No, tu devi aderire e basta. Devi subire. Ideisticamente. Cerchiamo di capire le cose. Non solo tu, ma i tuoi genitori. Certo. Ma poi sono venute su scala crescente le azioni di contrasto al terrorismo. La ricerca dei terroristi nelle loro basi, cioè in Ovax. E poi ancora le rivoluzioni della primavera araba. Non tanto spontanee quanto mosse da fuori dai motori di Google. Ma lui lo sapeva bene. Ma ce lo sa anche adesso. Però lui lo dice e gli altri ce ne guardano bene dal dir. Posto che l'abbiano capito. Infine i tragici interventi in Libia e in Siria. Da ministro ho detto in varie sedi che la democrazia si costruisce in loco. Non si può esportare come fosse un McDonald's. Ma quella non era assolutamente la motivazione reale. Ma è stata. Ma lo sappiamo, ma lui lo doveva dire da ministro. Allora no, ricordiamo che i signori cari esportatori della democrazia sono il paese più guerrafondaio al mondo di sempre. Perché su 245 anni di esistenza dell'Unione degli Stati Uniti, quelli dei 13 Stati iniziali, su 245-46 anni hanno fatto la guerra per circa 242. Quindi sono stati due o tre anni. Dal 1877 in poi, dai. No, prima, prima. Dal 1786 in poi. Scusa, scusa. Stavo dicendo 1700. Mi sono sbagliato. 1786. La democrazia non si esporta, a meno che non esista già una cultura democratica nel paese ricevente. Perché non esportano la democrazia in Cina? Infatti. Beh, ci hanno provato, no? Scusate un minuto. Mi dica, giovine. Eh, sto facendo un video assieme a Orazio. Adesso te lo passo. Chi è? Ubaldo, dai. Salutano. Ubaldo. Come va? No, no, no. Non ci penso proprio. A me devono andare a prendere col carro armato, guarda. E non è detto che non gli fanno trovare un bel... Pesso di strumento. Panzer Troust. Panzer Faust. Capito? Eh, lo so, lo so, lo so, lo so, ho letto ieri già che cazzo stanno succedendo. Ma anche i fascisti, quelli diciamo del 1934 nazisti, cioè del 38, del 38 anche loro, però poi qualcuno si è nascosto faremo quello. Andremo, andremo, andremo sulle montagne, che devi fare, andremo lì. E se non sulle montagne, sulle colline. Senti, ti devo lasciare che qui stiamo registrando, perché magari ci risentiamo in un altro momento. Ciao, 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 ciao. Pronti? Che mi volevi dire? Va bene, ok, sono a tua disposizione. Allora, torniamo al discorso iniziale e alla lettura di quello che appunto ci dice il buon Tremonti. Domanda dell'intervistatore. La democrazia non si esporta a meno che non esista già una cultura democratica nel paese ricevente? Per me, risposta, per me l'espressione più autentica della democrazia è quella contenuta nella Carta Atlantica del 1941, l'accordo sottoscritto da Roosevelt e Churchill, dove la democrazia è presentata come un modello, non come un obbligo. E certo, non come un prodotto. No, ma poi mi sono andato a vedere tutte le... Ieri sera, siccome avevamo fatto un'affermazione ieri a proposito sulla Repubblica degli Stati Uniti, sono andato a indagare, mi sono studiato un bel po' di testi, un po' di cose degli Stati Uniti. Non è vero un cazzo che gli Stati Uniti siano democratici. Assolutamente no. Intanto ci sono due fazioni impermeabili, assolutamente inamovibili, assolutamente in... Da sempre. Da sempre. No, ce ne sono stati di opposizione, ma quelli di vera opposizione le hanno fatti fuori tutti. Non per caso, non per modo di dire, le hanno proprio ammazzati. Metodo gangsteristico. Quindi non c'è scritto da nessuna parte, sui testi operativi della Camera Bassa e della Camera Alta, del Congresso, che la parola democratica non appare quasi mai, appare di sponda, molto di sponda, per cui è secondario. Le elezioni sono fatte in maniera del tutto illiberale, le votazioni sono fatte del tutto illiberalmente e così via. Anche le elezioni dei partecipanti al Congresso, non li sto a raccontare, andatevelo a vedere... Per noi sarebbero veramente delle sconcezze. No, per noi italiani, nonostante tutte le cangherie che ci hanno fatto in questi ultimi 30 anni, noi siamo un paese eccezionalmente libero. Ancora adesso. Ideologicamente. No, anche proprio praticamente. Nei fatti è abbastanza... Ma adesso, negli ultimi anni, negli ultimi due anni, ma fino a tre o quattro anni fa eravamo estremamente più liberi degli Stati Uniti. Eh certo, sono altri degli Stati Uniti, è sicuro. Allora, domanda, è in questi termini che l'America è stata e potrà ancora essere grande, dice Tremonti, il quale, noi sappiamo, ha un occhio di favore, vede sempre con favore gli Stati Uniti. Sì, gli Stati Uniti, ma devo dire francamente che ogni tanto gli Stati Uniti elaborano delle personalità di tanto di tutto rispetto, ricordiamoci. L'Afghanistan è l'ultimo atto di un'epoca che si chiude? Sì, no, dice no, si usa dire che l'Afghanistan è storicamente la tomba degli imperi. Aggiungo che da quelle parti c'è anche la tomba di Alessandro Magno. Sì. Il primo che si avventurò in quelle contrade con l'idea di costruire la civiltà perfetta. La tomba, metaforica, perché lui è morto ad Alessandria, eh? Non è detto, non si sa esattamente. Eh no, no, è morto. Comunque noi sappiamo... Nella sua corte, con la sua corte avvelenato da qualcuno, da una... Noi sappiamo... Da una donna. Noi sappiamo che Alessandro è arrivato, gli avamposti... Sì, sono arrivati anche in Afghanistan. Sono arrivati, ma molti là nell'Afghanistan, perché proprio un mio amico ricercatore, archeologo, ha scoperto, assieme all'equip che con lui studiava... Ascander, eh? Era e ha scoperto il punto di arrivo delle avanguardie delle truppe di Alessandro. Come giudica la gestione della pratica da parte dell'amministrazione Biden, più in generale ciò che impressiona è il distacco dalla realtà dell'intera leadership occidentale. Il communiqué che ha chiuso il G7 il 13 giugno scorso ci si presenta come il diario di un gruppo di turisti in un villaggio vacanze, turisti della storia, esteso su 70 punti dall'economia alla pandemia, dal rule of law agli orientamenti sessuali. Sintetizza il terzo mondo in una mappa Mundi e in questa mappa, al punto 57, c'è anche l'Afghanistan. Vi si esprime la determinazione di mantenere il supporto al governo afgano. Quale governo? È lì che io voglio arrivare. Io non lo sapevo. Si era in giugno, due mesi dopo è venuta la verità. Il crollo di un governo faltoccio e corrotto è la dissoluzione dell'esercito. Domanda. 300.000 uomini armati fino ai denti. 300.000 uomini. Si è dissolvato. Compresi 10.000 italiani. Dissolvato. No, no, no. Questo è l'esercito afgano. Ah, sì, sì, sì. E' lì che io voglio arrivare, perché è lì il punto cardine per me. Era un risposta. Era uno dei più grandi eserciti del mondo. Ha seguito l'esempio della guardia dello Shah di Persia. Soldati coraggiosissimi, dettili immortali. Chissà chi se lo ricorda. Quando scoppiò la rivoluzione popolare scomparvano tutti e non morì nessuno. Era questo il loro modo di essere immortali. Eh, certo. Allora, vedete, noi abbiamo dei precedenti molto interessanti che si verificano regolarmente. Non è soltanto la fine dell'immortale, perché io me lo ricordo benissimo. Mi ricordo anche una vignetta che è pubblicata su, non ricordo più quale rivista internazionale, dove si vedeva questi immortali straarmati che andavano all'assalto e venivano tutti falciati da una banale mitragliatrice. Sono scomparsi. Cosa significa? Significa che questi regimi possano avere gli eserciti che vuoi, eh? Se non c'è l'appoggio del popolo non fai un cazzo. Domanda. E adesso, oggi passiamo da un global order a un global disorden. Su di un arco di crisi attuali o potenziali, esteso dal mondo arabo all'Africa, da Taiwan all'Artico. Un caos che non sarà limitato alla geopolitica, ma si estenderà anche all'economia e alla finanza. Sicuro. E' questa la crisi che prevedevo nella lezione de Gasperiana scritta ai primi di agosto. E' la fine del G7, che per decenni è stato il centro del Washington Consensus. Un corpo politico unificato da un codice politico. La democrazia, un codice economico, un dollaro, un codice linguistico, l'inglese. Il resto dell'umanità ruotava intorno al G7. Ora non è più così, ed è probabile che il G20 lo sostituisca. Russia e Cina hanno già costruito un asse su cui giocare la partita dei loro interessi. Ora questi sono degli aspetti molto realistici che ci insegnano molte cose. Tra cui per me la cosa più importante è che quando tu pretendi di dominare una popolazione con la menzogna e con la violenza, finisci male. Ma non è soltanto l'esempio dello Shah, che io ricordo perfettamente il crollo quando lo Shah se ne andò. Crollò tutto il sistema. E non era che fosse perché il popolo credeva a quei tre o quattro pretonzoli, che poi ovviamente hanno continuato a comandare. Perché oggi in Iran continuano a comandare quei preti. E non è cosa da poco. E ormai è da 78. Eh, appunto. Sono 43 anni. Domanda. Saremo in balia delle autocrazie? Userei questo termine con moderazione. Pensate che sia facile governare democraticamente un paese di un miliardo e mezzo di persone, un paese che va da Anna Karenina a Gengis Khan? Eh, questi sono i retaggi veri, reali di una persona che è un vero uomo politico. Il vero uomo politico capisce le cose. E quando lui cita Gengis Khan e la paragona a Anna Karenina, significa che prende in considerazione un excursus storico e culturale che è quello che ha trasformato la Russia. Poteva aggiungere da Anna Karenina a Trotsky e da Trotsky a Putin. Però la realtà è questa. Per cui, e con questo concludo, perché qui ci sono altre considerazioni sulle quali vorrei soffermarmi un'altra volta, cari amici, voi credete di puntellare il vostro potere terrorizzando le popolazioni col rito della pandermia. Vi sbagliate, vi sbagliate. Quando verrà l'ordine di crollare, di voi non resterà nemmeno un pezzo di unghia. L'odore, l'odore. E nemmeno l'odore che poi sarebbe, in questo caso, la puzza. La puzza di letame. Dopodiché tanti saluti. Ricordando sempre che il letame almeno a qualcosa serve. No, è un colcine naturale eccezionale. Esatto. Soprattutto quello di peco. Esattamente. Quindi, cari amici, voi nemmeno letame siete. So long. Pace e bene. E qualche volta anche un po' più so long. Sì, dal di dietro. Parla rire, parla rire. Lo dobbiamo dire in francese.